Siamo sulla pista ciclabile, purtroppo oramai oggetto di scene, diciamo e chiamiamole così, di violenza contro le donne. Noi non vogliamo fare polemiche, vogliamo soltanto promuovere delle iniziative concrete. Per questo Saremo Futura organizzerà tra circa due o tre settimane una pedalata o addirittura una biciclettata a favore di tutte le donne di Sanremo che vengono invitate una domenica mattina per circa due ore con lo slogan Libera con la mia ombra. Siamo stufi, siamo veramente stufi di avere le nostre donne in pericolo. Non vogliamo che una donna che percorra la pista ciclabile possa avere paura e possa avere paura addirittura di perdere la propria ombra, oltre alla propria dignità. Difendiamole, tra un paio di settimane con Saremo Futura. Saluti.